ciao ragazzi in questo video vi faccio vedere come ho fatto montare la camera samsung 360 su zoom smooth 4 scusate per l'accento mezzo inglese e mezzo italiano vivo in inghilterra da parecchi anni allora ho comprato questo zoom questo coso e ho fatto ho messo questo adatto ora un adattore così facilissimo per montare la 360 senza fare altre modificazioni come vedete è già sopra accendere già acceso montare la camera la telecamera come vedete è già fatta questo è un foro modo si chiama e questa sbarra qua viene messa qui sopra per non andare giù allora adesso posso fare anche dai filmati perché c'è lo schermo posso vedere come fare il filmate a 360 oppure a 180 con una lenza sola dopodiché fanno anche questo per alzarla ho fatto uno di questi come vedete questo è un po più grande però non ha una importanza si mette di mettere così la quale si gira da solo quando girando questa qua si alza verticale può andare anche fino in alto dopodiché come far girare così in quest'altro viene della dell'altra parte andando giù per terra per fare i filmati verso basso togliendolo possiamo anche allungarlo e fare il filmato così girando di nuovo come vedete la 360 sta ancora in limite e sto guardando che cosa sto filmando sull'altro schermo telefonico come vedete arrivo fino a un certo punto che questo è un foro modo per fare i filmati giù e su ringrazio a tutti se avete qualche cosa da dirmi da chiedermi vi sarò utile vi ringrazio molto grazie per guardare alle vereci grazie